ciao sono Rossano Galtarossa campione olimpico di canottaggio lo sai che sabato 26 settembre c'è la giornata nazionale ADMO e tu hai il midollo serve per pubblicizzare l'operato delle sezioni ADMO io sono testimonial di ADMO Padova un circolo che ha 20 anni e come tanti altri sportivi cerco di sostenere queste iniziative molto importanti perché si cercano continuamente dei nuovi iscritti per registro mondiale e questa è una formula indispensabile perché veramente sono pochi quelli che risultano compatibili quindi è indispensabile trovare una base larghissima per poter dare un'opportunità a quei pazienti che devono ricorrere a un trapianto di midollo bisogna avere tra i 18 e i 37 anni per poter essere iscritti a questo registro poi si può donare fino a 55 anni tante volte le persone sono preoccupate ma per far questo basta un semplice esame del sangue praticamente una stupidaggine che può salvare delle vite e tu hai midollo allora ci vediamo sabato 26 settembre a Padova come in tante altre piazze nazionali ma noi a Padova vogliamo trovarli pensaci puoi fare una cosa molto importante a Padova come in tante